Tony! Ah? Eh? Minchia! Eh che ripeto quello che dico io! Oh! Io sono l'asso di bastone! Eh? Oh! Ma non mi rompere il quarto di cerca! Samu! Oh Samu! Guarda che profilo di nasca che cazzo! Oh mettila su Facebook, cercasi tipa! Cercasi tipa! Con il numero di telefono solo! Cercasi moglie! Shhh! Tu guarda! Tu c'hai l'intorno! Però vieni l'intorno! Ti piace come sei! Adesso me lo metto come... Mettila come... Mettila come... Ma tu un cugino come me dove lo trovi? Mai più! Una volta che ti ammazzano... Ma io sono l'asso di bastone! No! No! No!